Il tempo è nettamente a favore loro, dove praticamente non siamo scesi in campo, non c'eravamo, soprattutto dal punto di vista nervoso. Poi con dei correttivi siamo riusciti a recuperarla, anche secondo me meritatamente, e abbiamo avuto clamorosamente la palla del 3-2 con il tiro di Peterman e la respinta di Ogun Suye, che è stata deviata da un giocatore a portiere battuto, di testa, e poi la fiammata dell'Avellino ci sta sempre. Perché tecnicamente l'Avellino è una squadra forte, è una squadra che ha individualità importanti, quindi la fiammata ci sta, la giocata che possa essere del singolo piuttosto che dell'impatto emotivo della squadra, del ritorno te lo puoi aspettare. Arriva da un calcio d'angolo con la difesa completamente schierata e questo naturalmente dispiace tantissimo, però resta il fatto che un conto è il risultato della classifica, un conto è la prestazione. Ministro, come spiega questa amorfo tra il primo e il secondo tempo? Perché il Foggia ha fatto un primo tempo, obiettivamente, da 3, massimo 4. No, io direi... Forse è anche il primo tempo. No, non pervenuto, cioè non è pervenuto. Il secondo tempo da 8 in Pagela, perché a un certo punto è andato vicinissimo a un clamoroso ribaldone. Lei ha cambiato, no? Perché la qualità di Merata, per certi diversi, ha fatto anche la differenza, no? Ha aiutato, però credo almeno, magari lei potrà essere d'accordo o meno, che la scuola sia stata più mentale, no? Ebbè, è inevitabile, qualcosa tra il primo e il secondo tempo ci siamo detti. È inevitabile che ci sia stata una reazione, ma non può essere diversamente. Noi siamo una grande squadra, siamo una squadra qualunque. Non mi meraviglia il secondo tempo, sinceramente mi meraviglia il primo tempo. Non mi aspetto una squadra in quel modo, in campo, nel primo tempo, che prende due gol perdendo rimpalli. Cioè, il primo gol è difficile da spiegare tecnicamente a dei giocatori esperti come i nostri quali sono gli interventi correttivi da dover prendere individualmente in situazioni come quelle, dove c'è una perdita di contrasti, leggerezza nel pressare, quindi distanza molto lunga dal portatore di palla, marcature lente in area di rigore, lettura in ritardo nel voler andare a contrastare, palla che si smorza, arrivi in ritardo. Cioè, troppa roba all'avversario, forte. Troppa roba. E anche il secondo gol nasce, probabilmente, se vogliamo essere Pignoli, poteva esserci una gambatesa su Pederman che era in uscita, però quelle sono situazioni di gioco che ci possono stare. Cioè, io anche mettendomi nei panni dell'arbitro, capisco che è uno dei miliardi di contrasti che ci sono nell'arco della partita, posso anche lasciarlo andare. Però non possiamo poi prendere il gol guardando la palla e perdendo l'uomo a 5 metri in area di rigore. Ma questo non per colpevolizzare chi magari in quella posizione del campo deve intervenire. No, ma se dobbiamo commettere degli errori è meglio averli commessi adesso perché se guardiamo questa partita in ottica playoff è un risultato ottimo se guardiamo in ottica playoff perché ci permette poi in casa di avere il vantaggio dell'1-0, non di dover fare chissà quanti gol e quindi di poter avere questo piccolo vantaggio. Piccolo, perché in caso di parità poi si sa che chi gioca in casa alla seconda vuol dire che la classifica si è piazzato meglio. Però qua siamo andati molto oltre. Dispiace. Poi il secondo tempo è stata una squadra diversa. Ma non soltanto per Peralta, è stata una squadra diversa, più coraggio, più voglia di fare. La novità non è stata Peralta, la novità è stata i due mediani. Cioè mettere un centrocampo a due, dove per caratteristiche tra le altre cose si integrano anche bene Pederman e Auger. Però resta il fatto che comunque era la prima volta, dopo tantissimo tempo, che veniva schierato un centrocampo del genere, ma non potevamo fare diversamente. Però il secondo tempo è stato deciso da un episodio. Sbagliato da noi e trovato da loro, perché anche poi il tiro del gol non è un tiro, il loro terzo gol non è un tiro, mi devo dire, irresistibile. È un tiro abbastanza smorzato, lento, insomma non è un tiro imparabile, ma sempre non per colpabilizzare. Dispiace, dispiace per il risultato. Io però continuo a mantenere la prestazione, soprattutto quella del secondo tempo, e faccio tesoro anche, soprattutto, di quella del primo tempo. Mister, dice non per colpabilizzare, però ci sono errori marchiari, soprattutto in fase difensiva, e tra queste anche il portiere, ma non sembra dare sicurezza assolutamente. Ma l'ha ammazzato praticamente il portiere così. No, 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 ha fatto degli interventi importanti, perché lui è un portiere talmente forte, talmente forte che quando fa degli interventi gli semplifica, gli fa sembrare interventi semplici. Poi è normale che sul terzo gol si può arrivare prima, si può arrivare dopo, insomma quello poi fa parte dell'episodio, ma io Thiam me lo tengo bello stretto, perché Thiam credo che sia, a mio avviso, il miglior portiere di tutta la categoria, di tutta la Serie C, senza nulla togliere a tutti gli altri. Però è un portiere di una bravura unica, e poi non è bravo chi non sbaglia mai, è bravo chi sbaglia meno. Se c'è stato un errore, ne ho fatti tanti io, ne farà qualcuno lui, ne faranno altri, ma io non lo colpevolizzo affatto, ritengo che sia un grande portiere. E la difesa è meglio? Ve l'ho detto prima, dispiace per aver preso tre gol a difesa schierata. Ci sono cose che si possono allenare e cose che non si possono allenare. È il mestiere del tirare in porta, è il mestiere dell'attaccante, non ci sono esercitazioni che glielo migliorano o glielo peggiorano, ci sono condizioni che glielo migliorano o peggiorano. Però se uno fa il difensore e uno fa l'attaccante, in carriera un motivo ci sarà, perché evidentemente uno è più bravo a tirare in porta e un altro meno. E lo stesso discorso vale per il difensore. Ci sono momenti in cui non puoi insegnare l'arte del difendere, perché ci sono delle marcature uno contro uno che devi saper fare con grande applicazione e con grande vestiere. C'è un giocatore che è entrato nella fine della gara, nell'Avellino, che credo che se lo mettiamo a fare l'uno contro uno in fase difensiva, pochi sono forti come lui. Oggi non ha giocato, poi è entrato negli ultimi minuti proprio per difendere il risultato. Ha capito a chi mi riferisco. Aveva una barba lunga, se se lo ricordo. Ci sono giocatori bravi a fare alcune cose, altri che ci devono lavorare. Dispiace perché più che difendere in dieci non possiamo, più che difendere in dieci in aerea di rigore non possiamo. Difendere in dieci in aerea di rigore e lasciare l'uomo libero vuol dire che è disattenzione, è una mancanza di lettura in anticipo. Ma questo è anche colpa dell'allenatore, perché l'allenatore probabilmente deve dare una disposizione difensiva diversa, soprattutto in quel minutaggio, per cercare di agevolare la fase difensiva, qualora ce ne fosse bisogno, per carenze individuali. Il secondo tempo di oggi, come diceva giustamente lei, ha dimostrato che poi la qualità fa la differenza soprattutto in mezzo al campo. Oggi Foggia però dovrebbe rinunciare a Schenetti, che è un giocatore particolarmente... Anche di noia, anche Beretta, anche Bacca. Si sta immaginando il Biffo già con i tantissoni e su Schenetti soprattutto se ha l'opportunità di ritornare. Io sono alla terza partita. La prima partita da Tandri avevamo tutta la difesa fuori. Oggi avevamo tutto il centrocampo fuori. E giocava Peterman in una posizione diversa che è quella che solitamente occupa. Andiamo a reparti, non è che andiamo a scingola, andiamo a reparti. Perché il nostro centrocampo in questo momento sarebbe stato Peterman, Bacca, e scusate, Peterman di noia, Schenetti. In alternativa avevamo provato Bacca fino all'ultimo momento, poi ieri in rifinitura ha avuto un risentimento muscolare e quindi l'abbiamo perso. Siamo andati in emergenza non tanto per quello che potevano essere i giocatori che hanno giocato quanto per i cambi. Lì nei cambi non avevamo altre alternative. Dovevamo adattare ancora qualcuno fuori ruolo. E allora abbiamo preferito andare con un centrocampo a due e mettere un giocatore con caratteristiche più offensive. Però io mi auguro di recuperarli. perché questa prestazione più la possibilità di avere altri giocatori in panchina che possono dare ulteriore qualità quando ci sono i cambi, diventa fondamentale per una squadra importante. Mi permette di dire una cosa? Faccio un grande in bocca al lupo al nostro Battimelli perché oggi fa l'esordio in prima squadra, nel 2005. Fa l'esordio in prima squadra, quindi è giusto che gli venga riconosciuto questo esordio che viva tantissimi di questi giorni, tantissimi. Non dal punto di vista del risultato, ma dal punto di vista del piacere di aver esordito. Prego. Già mercoledì recuperiamo alcuni? No, perché di noia è un problema muscolare schienetti zoppica, quindi è un problema edema osseo. E quindi ci vuole tempo per poterlo recuperare, non è una cosa di poco conto. Perché Contec è un centrale e Di Pasquale è un mancino che può fare il braccetto di sinistra. Sul discorso di Pederman-Metzala, penso che è un esperimento da non ripetere più. Ha visto la partita? Sì. Chi ha avuto la palla a colla del 3-2? Noi. E chi l'ha tirata? Vedete. Facendo quale tipo di movimento? Un inserimento da Mezzala. Vedete? Insomma, poi alla fine si è ripreso... L'unica cosa... Io ho risposto facendo rispondere a lei, non è una polemica assolutamente. No, assolutamente. Poi ci sono delle situazioni che possono andare bene, altre meno bene, però le ho risposto facendo rispondere a lei. L'unica cosa, forse se la chiede tutta Foggia, due gol presi allo scadere del tempo. Insomma, tenuta mentale. Eh sì, no, ma... Abbiamo fatto il mio volimento Giuliano, due pari... Non lo so, Giuliano non la conosco, però... Ma sono più di fretta. Per... Sì, assolutamente. In chiave pre-off. Assolutamente sì. Il problema non è aver preso i gol negli ultimi minuti della gara del primo e del secondo tempo. Il problema è aver fatto un primo tempo su tutta la falsariga di quei minuti. Cioè, ne abbiamo fatto 50 minuti in quella condizione. Eh, sono troppi, no? Non puoi... Anzi, dico di più, ci è andata pure bene. Al primo tempo ci è andata pure bene che è finita 2-0 per come abbiamo giocato. Quindi, eh... Mancanza nostra, molta mancanza nostra. Ultima domanda, ce lo chiedono. Beretta e Bacca, se dobbiamo aspettare i play-off, c'è possibilità? No, allora, Beretta ha ripreso a ritmo gradualmente con quella che è la condizione del momento, però è guarito clinicamente, quindi sta riprendendo la condizione atletica per essere poi pronto per entrare in campo. Diciamo che già della partita di Cerignola può essere un giocatore per un tempo disponibile. Bacca ha avuto un problema muscolare, adesso bisogna vedere, l'avuto ieri mattina, adesso bisogna vedere questo problema quanto tempo durerà, perché se non abbiamo fatto analisi strumentali, quindi siamo sulle sensazioni del giocatore, su quello che ha toccato lo staff medico, però sta di fatto che c'è un indurimento al polpaccio e adesso bisogna vedere se c'è una lesione o semplice indurimento. Semplice indurimento, tre giorni stiamo a posto, se c'è una lesione bisogna vedere il grado, in base al grado poi ci sarà il tempo di recupero. Schenetti è di noia, visto il tempo di recupero? No, di noia c'è una lesione al polpaccio, quindi è una cosa che ci vuole tempo, ci vorranno almeno una ventina di giorni. Schenetti è un edema osseo, l'edema osseo è una cosa molto personale, perché non c'è niente ma fa un dolore incredibile e lui non riesce a poggiare il piede a terra, ancora oggi non riesce a poggiare il piede a terra, quindi non sappiamo quanto tempo ci smetterà per assorbirlo e poi di conseguenza per poter essere in campo. Non credo che il gruppo con sé sia stato ammonito. Sì, si è stato ammonito alla fine sul gol del 2-0, per protesto, non giù. Vuole già la formazione? No, no, no. Una curiosità, dai fino a qualche settimana fa l'ha commentato questa Serie C, ora la sta vivendo da protagonista. Noi più in generale, vedendo l'andamento di tutto il campionato, ci sembra una Serie C che è altamente penalizzata dal punto di vista delle condizioni arbitrali. Anche oggi mi sembra un arbitraggio che ha scontentato sia voi e soprattutto anche l'autista. Io a fine primo tempo e a fine gara ho fatto i complimenti all'arbitro per la direzione arbitrale. Io, per come l'ho vista io, poi non lo so. E questo, una squadra, un allenatore che esce dal campo col 2-0 all'avversario e va dall'arbitro e gli dice non ho nulla da dire sulla direzione e sulle decisioni arbitrali, io credo che questo faccia capire quella che è stata la mia impressione su questo arbitraggio e sugli assistenti. Io poi ritengo che lui sia personalmente uno dei più bravi in assoluto della categoria. Mi scusi, non per polemizzarmi, ma nel primo tempo il fallo di Costa su Ricciardi non era taggiato, probabilmente era proprio da Rosso. Non l'abbiamo visto in gara edizione, perciò mi permesso di... Però probabilmente si è distratto sul fallo che ha subito Costa all'inizio del secondo tempo, tra le due panchine dove lui ha spostato la palla in velocità, palla lontana, è arrivato l'avversario, l'ha preso nettamente, ci sono due motivi perché il fallo è molto grave. Due motivi, uno a palla lontana e uno la volontarietà di andare a far farlo interrompendo un'azione con gioco pericoloso. No, io sto facendo l'equivalenza dell'arbitro, sto dicendo l'equivalenza dell'arbitro sulle due... Sì, ma io ho risposto dicendo che è equivalente, da una parte ha deciso, ha deciso uguale anche dall'altra. Quindi non è che ha fatto una cosa a favore di uno e contro un altro. È stato coerente, è stato coerente perché... Io non ho nulla da dire, io sulla direzione dell'arbitro personalmente esco sconfitto dalla gara e dico, secondo me l'arbitro è arrivato bene. Mi sembrava che lei però, in caso di iniziare, si è detto che sul primo 1 potrebbe esserci un fallo. No, io sono andato... Lei si è soffermato solo sul titolo, poi c'è stato l'articolo dentro, lo sviluppo della considerazione. Sono uno di cui mille interventi all'interno di una partita dove un arbitro può anche lasciare andare perché sono interventi che ci stanno. A volte li può punire, a volte no. Quindi io non mi lamento se non me l'ha dato. Dico, ci sta, poteva starci, non l'ha dato perché evidentemente non l'ha ritenuto opportuno. Io generalmente sui 90 minuti della direzione arbitrale, della terna arbitrale, ma soprattutto anche della grande educazione che ha avuto il quarto uomo nei confronti delle panchine, io non ho nulla da dire. Poi, io parlo dal punto di vista allenatore del Foggia e parlo del Foggia. Poi mi parla dell'Avellino, c'era Rastelli, chiedetela a lui. Non voi chiedete a me, chiedetela a Rastelli. Quindi io parlo per quello che è la mia, il mio punto di vista, per quello che è la mia squadra, per quello che sono state le mie visioni delle cose.